Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi voglio fare una breve live in cui uno vi auguro un buon Natale, quindi semplicemente non è tanto per fare la live, rispondere ai vostri commenti eccetera, quella la farò magari in futuro, o magari gli ultimi due o tre minuti della live se c'è qualcuno, anche se penso che a Santo Stefano non si connetta nessuno, ma la cosa è che terrò questa live proprio come un video, perché uno durante queste feste non avevo tempo di editare, e quindi ho detto faccio una live così è più semplice, veloce, già online e due almeno vi auguro direttamente buon Natale senza aspettare il giorno in cui riesco a postare un video, ve lo faccio adesso e volevo farvi vedere i miei regali di Natale, siccome ho dovuto aspettare oggi per stare a casa, ho fatto tre giorni praticamente da parenti a mangiare in giro, sono stato anche a teatro per la prima volta a vedere il balletto, il lago dei Cigni e dato che ho ricevuto dei regali dai miei parenti e in più anche dei regali dai brand, soprattutto nel mondo beauty o comunque profumi, ci tenevo a farvi vedere un po' come video. Grazie mille a tutti quelli che si connettono, ciao Lucas, ciao Floriana, per qualsiasi cosa lasciatemi una domanda, la guardo comunque a fine video, oppure se gli ultimi cinque minuti rispondo alle vostre domande o qualsiasi cosa. Intanto io proseguo. Allora innanzitutto mi hanno, mia madre, mi ha regalato l'albero della vita, che è quello che avete visto nella thumbnail, e non lo so, non so, la metterò in camera, abbiamo sistemato quest'anno tutta la camera nuova, a fine settimana uscirà un video in cui parlo anche dei miei obiettivi del 2023, tutto quello che è successo nel 2022, e mi ha regalato l'albero della vita e probabilmente avendola ristrutturata, la camera sicuramente troverò uno spazio dove metterla. Poi mi è stato dato di Hugo Boss, l'ho perso, dov'è il regalo? Ancolo qui. Beh ovviamente soldi, perché qualsiasi classica famiglia italiana ti dà soldi durante le vacanze di Natale, e poi praticamente per chi mi ha seguito da quest'estate, io ho ricevuto per la mia laurea un portafogli di Hugo Boss, che mi piace tantissimo, io mi vesto sempre di nero, e mi hanno dato questo portafogli molto bello che mi piaceva tantissimo. Quest'estate a Napoli me l'hanno rubato, me l'hanno rubato il portafogli, e quindi adesso un po' come simbolo me l'hanno riregalato, e mi piace molto, quindi finalmente ce l'ho ancora. Mi l'hanno regalato, biancolatte, ne ho bisogno, nonostante sia mascolo il nostro come un tepiro d'oro, perché è spettacolare, biancolatte è pazzesco. Grazie mille ragazzi, per qualsiasi cosa, proprio a Napoli, ma guarda, lasciam stare, lasciam stare, ho fatto tutto un video dedicato, sono anche stato un idiota anch'io, però vabbè, poteva accadere ovunque, è successo. Comunque, poi mi è stato dato un libro da mio fratello, ovviamente ho 156 miliardi di libri da leggere, non so se riuscirò a trovare il tempo, però siccome è piccolo e tutti ne parlano di questo Murakami, proverò a leggere questo Murakami. è l'arte di correre, è abbastanza corto in realtà, e mi ha fatto tutta una dedica che parla proprio di crescita personale, eccetera, quindi in realtà potrei dargli un'acchiata a vedere come, anche se devo finire di leggere Hero, di Ronda Byrne, devo finire di leggere un po' di cose, però insomma, mi conoscono bene, mi hanno regalato dei biscotti. Luca, dai che appena 72 anni riesci a finirli tutti i libri, sì, appena, ci vorrà un po' di tempo ecco per tutti i miei libri. Scusate anche il disastro ragazzi nella stanza e tutto, ma un casino in questi giorni, anche i capelli, un disastro. Tanti auguri ragazzi, tanti auguri, grazie a tutti quelli che ci sono, e se avete qualsiasi domanda o qualsiasi cosa, ve la lascio anche, rispondo verso la fine. Praticamente, siccome io indosso sempre le solite cose, metto sempre le solite cose quando vado in giro, non mi piace esprimermi tanto tramite i vestiti, preferisco mettermi la mia solita maglietta nera, le mie solite cose, ogni tanto la camicia per occasioni speciali, però di solito mi vesto sempre uguale, lo notate se mi seguite sui social, e diciamo che i miei parenti o le persone attorno a me mi hanno detto, sai cosa, invece di farmi un regalo strano, cose che non mi servono, mi hanno detto, una volta all'anno ti obblighiamo a comprarti dei vestiti, e quindi mi ricompro le mie magliette nere, perché essendo che indosso sempre le stesse cose, dopo un po' si sfaldano, si rovinano, e quindi ogni anno mi danno un budget, e dato che non ho trovato ancora niente, sto cercando scarpe, pantaloni e tutto, almeno, intanto sotto l'albero, ho ricevuto i Nutella Biscuits, che è la mia seconda passione, i biscotti. Sei più ordinato che tutti noi messi insieme, te lo assicuro, grazie mille. Buonasera, ciao domenico, ciao a tutti ragazzi. E poi ho ricevuto, cosa che ho ricevuto? Questo, 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 i biscotti, i vestiti, ah basta, e poi dai brand, i profumi, che ve li faccio vedere. La maggior parte dei profumi li avete già visti, perché soprattutto se mi seguite su Instagram o TikTok, diciamo che ogni volta che mi mandano qualcosa, ci faccio un video, almeno per ringraziare, e non mi metto a fare video lunghissimi su ogni profumo che ricevo, perché sennò diventerebbe, dovrei fare sette video al giorno, sette video a settimana, e invece ne faccio un paio a settimana, poi ho il secondo canale, quindi diciamo che preferisco fare video più brevi per i regali che mi danno, sul TikTok e su Instagram, e invece mantenere i video magari un po' più fatti bene, più strutturati per il canale. Quindi per chi mi segue sugli altri social, già magari li ha visti, però ve li faccio vedere anche qua. Allora, Lush, perché questi sono i regali dei brand, non paragonatevi ai regali che ricevo ragazzi, questi che adesso vi farò vedere sono tutti profumi, anche costosi, ma è il mio lavoro, quindi non dite, ah ok, wow, si è fatto regalare tutte queste cose qua, no, i brand decidono di regalarti delle cose, soprattutto gli influencer o gli esperti di un ambito, per poi magari fare video, oppure per allacciare un rapporto, come un datore di lavoro che dà il regalo ai dipendenti, oppure come nelle collaborazioni tra commerciali, o tra aziende, o dipendenti, o liberi professionisti, quindi in realtà tutti questi sono, diciamo, cose, sono regali praticamente di lavoro, quindi io li apprezzo tantissimo, però non paragonatevi a me da dire, ok, wow, io ho ricevuto solo dei calzini, e tu hai ricevuto un profumo da tot euro, quindi non fate questa cavolata, però ve li faccio vedere comunque, perché magari vi potete prendere spunto. Allora, il primo è della Lush, ed è un body spray in realtà, al tabacco, l'offe, si chiama Lazy Off, ok, anche questo sicuramente farò un video, qualcosa che ti metti dopo la doccia, il secondo di Fragrance Dubois è PM, Producer Michael, l'hanno dedicato proprio a questo producer musicale, con questo stile di vita molto esuberante, pazzesco, quindi con proprio questo stile di vita esagerato, nel lusso, lavish, e sa proprio di legni, sa di mascolinità, sa di soldi, non è da tutti, un po' resinoso come profumo, non è da tutti, però è un profumo veramente pazzesco, dura tantissimo, non si fa notare tantissimo, mi soffermo un minuto, l'albero della mamma è spettacolare, vero, i biscotti sono molto calorici, ti consiglio di rambusarne, guarda, i biscotti sono la mia droga, e sto cercando, anche nella mia challenge che ho fatto di 21 giorni, ho cercato di toglierli, e adesso finalmente ce la sto facendo, sto togliendo i biscotti, ho sostituito i biscotti alla mattina, perché io proprio mi alzavo la mattina, e non vedevo l'ora di mangiare i miei biscotti, li sto sostituendo con qualcosa di proteico, quindi diciamo che non solo vado a togliere tutte le calorie dei biscotti, perché non riuscivo, dato che non ti saziano, non riuscivo a smettere, non riuscivo a darmi le quantità, riuscivo per una settimana, poi vai a finire sempre peggio, adesso invece non solo ho tolto le calorie dei biscotti, ma ho aggiunto anche le proteine, perché i biscotti erano l'unica cosa che durante i miei giorni faccio allenamento, faccio tutto, mangio bene, e poi la mattina rovino tutto con i biscotti e i cereali, su tutte cose zuccherate, almeno adesso ho messo qualcosa di proteico, adesso sto provando i pancake proteici, con il latte, e uno yogurt di soia, e dovrei iniziare a vedere i miglioramenti a breve, quindi questo è un po' il riassunto. Ma quando ci riporti il tuo amico attore Davide, ma non è un po' attore, era una battuta che ho fatto durante il video, mi sono recuperato il video, molto bello, no no, lui faceva il modello con me, lavoravamo insieme, e ogni tanto per rire, lui è stra simpatico, è di Reggio Emilia, e quindi è da un sacco che non lo vedo in realtà, appena lo vedo, però viene da me, sicuramente vi riporterò un video. Ciao Marco, conosci la guasha? No, è una pietra che dovrebbe migliorare la giola, e l'hai mai provata? Secondo te è un buon prodotto? Non lo so, sinceramente, ma se ho fatto una battuta anch'io, ah ok, io in realtà faccio la battuta a tutti con queste cose, il mio regalo è, preferito è l'albero, ah questo, perché non l'avesse visto, devo ancora capire dove metterlo, auguri Marco, non vedo l'ora di vedere un video sulla tua routine alimentare, grazie mille ragazzi, allora proseguendo con i profumi, non manca tantissimo ragazzi, ho quasi finito, uno che ho ricevuto e mi è piaciuto tantissimo, è questo qua di Malanotte, e è inaspettato, si chiama Gold Rush, è un profumo, cos'è? Non lo sapevo, mi hanno appena riferito cos'è la guascia, questo è Gold Rush, praticamente io non me l'aspettavo, di solito i brand ti scrivono, e ti dicono, guarda vorrei inviarti qualcosa per Natale, e invece loro non mi hanno detto niente, era un brand che ho conosciuto, Alex Hans, sono stati super carini, con proprio la lettera, la foto del team e tutto, mi hanno inviato tutto, anche loro, anche le altre persone mi hanno inviato una lettera, con tutti gli auguri, eccetera, e questo è un po' più femminile, pulito, luminoso, molto buono, molto elegante, anche questo, proseguiamo, aspetta che mi sa che ho, ok, la connessione c'è, poi, invece, il prossimo, profumo, magari voi l'avete già visto, anzi ho fatto anche un video a riguardo, è il profumo di Alex, qua sul canale italiano, ho dovuto fare un profumo a riguardo, perché Alex è abbastanza conosciuto, nel mondo della profumeria italiana, mi ha dato, niente Siri, impazzita, e mi ha dato, dei tre, che ho fatto Salvia Plus, Room Plus, e Golpar, mi ha dato Golpar, e ho già fatto un video a riguardo, quindi in caso ve lo lascio in descrizione, andatevelo a vedere, è l'ultimo video che ho fatto, in realtà, prima di questa live, è un extra de parfum, questo è un super speziato, sa, quasi di indiano, è questa nota iraniana speziata, che non viene quasi mai usata, nel mondo della profumeria, questo indiano giallo, non so, non è da tutti, però dura tantissimo, si sente tantissimo, quando sono stato a Verona, mi hanno detto, che lascia tantissimo la scia, quindi, in realtà, anche su questo, vi trovate la recensione, un altro profumo, super, 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 forte, che mi hanno dato, a Zor, da Zor, a Milano, in profumeria, è, un profumo dedicato a loro, da Panteo Roma, ed è Zeta, un cuoiato, fruttato, fortissimo, che anche questo è una bomba, non me l'hanno in realtà regalato, proprio per Natale, Natale, però l'ho ricevuto in questo periodo, quindi l'ho incluso nel video, anche tutti i video in realtà, i profumi che ho ricevuto da L'Oreal, non li ho inclusi, avrei anche altri, tipo Biancolatte, così, eccetera, che ho ricevuto in questo periodo, ma non sono stati esclusivamente di Natale, anche questo, pazzesco, dura tantissimo, uno dei profumi più forti, cuoiati, e fruttati orientali, che ho ricevuto, e ha delle performance assurde, bisogna stare attenti anche a quanto se ne spruzza, e dove, perché rimane sempre, e idem, sempre da Zor, c'era l'evento di Royal Crown, questo ne ho già parlato, farò anche un video più specifico a riguardo, si chiama Nocturna, è il mio profumo più costoso della linea, di tutta la mia collezione, ho fatto tutto mano, eccetera, con questo vetro, spesso è un dolce fiorito, perfetto per la notte, perfetto per la sera, molto particolare, molto elegante, qua si va sui, quasi sui 600 euro ragazzi, di profumo, pazzesco, invece, questo è di Francesca Bianchi, ho ricevuto tre dei loro profumi, questo è quello un po' che mi piace di più, un po' più particolare, ho ricevuto Angel's Dust, The Dark Side, e questo della collezione nuova, Divine Perversion, Hedonic, che sa proprio di questo mondo, com'è che si chiama, BDSM, quel mondo tipo un po' erotico, se possiamo dire, con queste note quasi metalliche, plasticose, sembra quasi un profumo di sorcinelli, però veramente anche questo dura tanto, buono, risveglia la parte femminile di una persona, e basta ragazzi, l'ultimo che ho ricevuto invece, ed è per concludere la live, per concludere il video, è il mio, uno dei miei preferiti del momento, mi piace tantissimo, è il profumo nobile, 1942, Rudis, questo ragazzi, è una bomba, questo mi piace tantissimo, è un profumo terroso, radici, polvere, sangue, quindi questa è una taliferro, antico, terreno, rosso, fuoco, è un profumo che dovrebbe ricordare un gladiatore, Rudis era una delle, era l'arma che davano ai gladiatori, dopo aver vinto varie battaglie nell'arena, ragazzi, rispondo alle domande a brevissimo, human gatto, come stai? dopo ti dico cosa faccio a capodanno, a brevissimo, allora, per finire, sì, è un profumo che dovrebbe ricordare praticamente un gladiatore, farò anche un video al riguardo, perché mi è piaciuto tanto, e questo brand, un brand che non conoscevo, devo esplorare un po' di più, l'avevo conosciuto anche al Pitti, è proprio questa idea, quando mi è arrivato, ed è una cosa di cui ho parlato nel video, che dovrà uscire questo fine settimana, ultimamente continuano a capitarmi, sto leggendo un libro che si chiama Hero, e di Rhonda Byrne, la stessa che ha scritto Il Segreto, e c'è questo continuo e ricorrente tema, di seguire il proprio sogno, capire quale è il proprio sogno, ed è una cosa che io quest'anno, ho passato tanto tempo, a fare introspezione, a cercare di capire cosa fare nella vita, a capire qual è la migliore strategia per i miei social, capire varie cose su di me, e ultimamente con questo libro, un corso che mi è stato dato, adesso che sto testando, di autostima, eccetera, la stessa cosa, poi ho iniziato tipo un periodo, in cui sto provando adesso coaching, su Instagram, lo trovate nelle mie highlights, nelle mie storie in evidenza, e ho fatto tipo un form, e Giorgio Vanni, che è uno dei miei idoli in assoluto, il cantautore delle sigle, di quando eravamo piccoli, dei cartoni animati, mi ha proprio scritto, perché io l'avevo taggato in una storia in precedenza, mi ha proprio fatto il form, e scritto follow your dream alla fine, tutte piccole coincidenze, che continuano a farmi rivisitare questa idea, di è il momento di seguire il proprio sogno, un video anche di Sadhguru nello yoga, in cui invece parlava proprio che questo è il periodo in cui c'è un'illuminazione all'interno di sé, per chi è nel percorso spirituale, e quando ho ricevuto questo profumo, all'interno c'era la descrizione di questo gladiatore, che entra nell'arena e beve il vino, quindi c'è anche queste note di vino rosso, prima di entrare, per avere un po' di leggerezza, e sentire meno la sofferenza durante la battaglia, e prima di entrare quindi c'è questa idea del coraggio, della forza, della leggerezza, del combattere per la libertà, per il proprio sogno, e leggere questa cosa di hero, warrior, seguire il proprio sogno, libertà, eccetera, e poi nella cartolina che mi hanno scritto, c'era proprio... Nella carta che mi hanno scritto proprio, c'era auguri, buon Natale, eccetera, buone feste, speriamo che te, che questo 2023, sia anche te un gladiatore, e combatti per i tuoi ideali, il tuo sogno e tutto, quindi ho questo continuo, questi segnali un po' dal mondo, dall'universo, di seguire i miei sogni, e quindi il mio 2023 si concentrerà su questo, e questo è un profumo che segna un po' questa cosa, quindi ecco qua ragazzi, in realtà non voglio rendere il video troppo lungo, quindi cerco di concluderlo qua, rispondo al volo alle domande che mi sono rimaste qua in precedenza, puoi fare un video stile American Psycho, allora routine alimentare, lo farò, a parte che avevo già fatto un video simile, poco tempo fa, tipo per avere la mia pelle perfetta, ah, tipo American Psycho routine, tipo per avere la mia pelle perfetta, uno scrub al miele mandor, se troppo bene da Sigma Bateman, ok, farò qualcosa così, Sì, restai zitto nel disturbare il Marcone di Liga, ciao Marco, che farei Capodanno? Capodanno in realtà ragazzi, volevo andare alle terme, ma è diventato tutto costosissimo quest'anno, quindi devo capire cosa fare, e probabilmente mi metterò via i soldi, andrò semplicemente in centro qui a Verona, a guardarmi fuochi, o a fare qualcosa in casa, o qualcosa di tranquillo, e i soldi delle terme, invece li userò per andare alle terme, un altro giorno che costa meno, e in più andare a provare a sciare, dato che ho provato Snowbro l'anno scorso, quest'anno voglio provare a sciare, i capelli ogni quanto li taglio, in realtà vado ogni 6 mesi circa, e taglio solo le punte, li sistemo, e faccio un trattamento di ricostruzione tipo Olaplex, Human Gatto, tutto bene, grazie, Marco, me lo sai che sei molto dolce, grazie mille Floriana, io voglio vedere Marco che fa una 619 a Jeremy, per i profumi che gli ha fatto comprare, e non gli sono piaciuti, maledetto, gli tiro una costa in faccia, quel mon blanc individuale, che va schifo, no dai scherzo ragazzi, ecco qua ragazzi, non voglio rendere il video troppo lungo, quindi concludo qua, spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, grazie mille per tutto il supporto in Alive, grazie mille per il supporto quest'anno, buon Natale a tutti, buone feste a tutti, spero che vi abbiate passato un buon Natale, vi farò, questo fine settimana uscirà un video, in cui parlo anche del 2022, come è passato il 2023, seguitemi su Instagram, lasciate un commento, rispondo a tutti i commenti, almeno una volta a settimana, scrivetemi anche per qualsiasi cosa, su Instagram rispondo sempre a tutti, anche ai messaggi, e niente, queste sono le cose che ho ricevuto a Natale, fatemi sapere anche voi, che cosa avete ricevuto a Natale, e ci vediamo al prossimo video, anche alla prossima live, che magari continuerò a fare, dato che è una cosa che in realtà, non mi dispiace fare, mi diverto sempre, e grazie anche voi nella chat per il supporto, e niente ragazzi, iscrivetevi al canale, un mi piace, un commento, se volete, come sempre, e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi, buon Natale e buone feste, buon anno ve lo dirò a breve,